Nella giungla del verde pubblico tornano i volontari, o almeno questa è l'intenzione, l'Associazione Volontari Sulmona. Considerate le difficoltà riscontrate nella gestione della manutenzione del verde pubblico cittadino, a conferma che l'attività dei volontari essenziale ha deciso di mettere a disposizione del sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero il proprio operato al solo scopo di collaborare con lo stesso affinché si possa riportare verde pubblico cittadino in uno stato decoroso, si legge in una nota. I volontari chiedono pertanto al primo cittadino di essere convocati a un incontro per concordare le modalità di intervento. Gli stessi volontari nei mesi scorsi avevano ripulito il parco fluviale dopo il maltempo che fragellò il plomone verde con la caruda degli arberi. Intanto la Palazzo San Francesco hanno programmato il taglio dell'erba in località Bagnaturo per le giornate del 19 e 20 maggio prossimi.